Troppo ampio il divario tecnico tra la folgore del Fino Curi Pescara, che in settimana aveva conquistato la semifinale di Coppa Italia, e lo Spoltore. Il 4-0 con cui i biancazzurri hanno liquidato nel derby gli Azzulgrana è lo specchio esatto della differenza che si è vista in campo. Hanno pesato di più le assenze in casa Spoltore, Terrenzio, Lupo e Pedalino fuori per infortunio, a cui si aggiungerà nel primo tempo anche Esposito. Tra i locali Out Bocchio e Parenecea per quest'ultima stagione finita, Mister Bonati parte con un 4-3-1-2 dando libertà a Curvino di ispirare la manovra sia sulla fascia destra sia da trequartista Napoletano e Andreassi ad aggredire la prima linea avversaria. Panchina iniziale per Dinizio e Ragneri, arbitra l'incontro Asia Armaroli di Teramo assistita da Luciani di Vasto e Longo di Chieti. Primo tempo padroni di casa a fare la partita con una manovra avvolgente e soprattutto ragionata e non confusionaria. La prima rete arriva al diciassettesimo e porta la firma di Napoletano, bravo a piazzare l'assist servitogli da Di Renzo, capace di serpenteggiare in area avversaria. Lo spoltore non pervenuto e subisce costantemente l'iniziativa dei padroni di casa, anche se al venticinquesimo reclama per questo episodio in area ai danni di Ventola, ma le immagini danno ragione al fischietto Teramano. Il raddoppio al trentasettesimo e porta la firma di Ferrante che recupera palla nella tre quarti e con un elegante palleggio supera prima un avversario. Appena in area lascia partire un destro imprendibile per Palena. Partita praticamente già in ghiacciaia, nei secondi 45 minuti Mister Bellet presenta subito due novità, Aceto e Marini al posto di Spadafora e Fall. E per un buon quarto d'ora lo spoltore riesce a tenere il possesso palla e a impegnare Pierandrei, prima con Ventola. E poi con Bonanno che sfiora di testa il traversone di Rossetti. Sull'intervento dell'estremo di casa il pallone termina in corner dopo aver baciato il palo. Nel momento migliore gli ospiti subiscono la terza rete. La firma è quella di Curvino, servito da un sontuoso napoletano. E il minuto 17. Poco dopo Bonatti concederà gli applausi del pubblico proprio a Napoletano e Curvino per dare spazio a Dinizio e Quaresima. Dinizio sfiorerà il gol ben due volte prima di andare a bersaglio. Prima è Palena a negargli la gioia della rete. E poco dopo sarà il palo. Il poker verrà servito al minuto 38. Ranieri vede Dinizio che di giustezza si porta il pallone sul sinistro prima di battere Palena. Senza alcun recupero arriva il triplice fischio. La Folgore dimentica così il 3-0 rimediato Alfadini sette giorni fa e riprende la corsa verso i play-off. Per lo spoltore situazione sempre più complicata in chiave salvezza. Spetterà al nuovo direttore sportivo Antonello Di Crescenzo ora a provare a rinforzare l'organico per continuare ad alimentare la speranza di non perdere la categoria.